Chi è Boeri? Il nuovo Ministro del Lavoro? Il nuovo Presidente del Consiglio? Mi pare che il Professor Boeri sia solo il Presidente dell'Inps, non mi pare che nei programmi del Governo ci sia tutto questo, ma lo dico con grande preoccupazione, mi pare che queste comunicazioni che vengono date dal Presidente dell'Inps portino sconcerto, preoccupazione nei pensionati italiani, presenti, futuri e che siano un modo di affrontare il problema della sostenibilità della gestione dell'Inps in maniera assolutamente impropria, assolutamente inappropriata e produttrice di stress nei nostri pensionati. Io credo che il Presidente dell'Inps Boeri sia da censurare per queste sue dichiarazioni, assolutamente inaccettabili. Queste sono decisioni che deve prendere il Governo. Il Governo se ne assumerà le responsabilità, ma non può il Presidente dell'Inps fare queste dichiarazioni che mettono nello sconcerto, talvolta nella disperazione, i pensionati italiani. Al di là del merito, il Presidente dell'Inps faccia il Presidente dell'Inps, attui le direttive e le leggi e non sia il Ministro del Lavoro o il Presidente del Consiglio. Questo dualismo Boeri-Governo deve finire e dovrebbe finire con le dimissioni di Boeri.